Poeti che si sono chiamati i Novissimi, di cui facevano parte appunto Giuliani e Pagliarani, Sanguinetti e Porta e io, che era un gruppo appunto nato nel 61 con un'antologia che si era chiamati i Novissimi e che ha suscitato molto scandalo perché era appunto in controtendenza con tutto quello che si stava facendo allora nella poesia e che è stata un po' una zona di punta diciamo un po' per la poesia anche degli anni degli anni successivi.